Cilento, terra di miti, ma anche di musicisti di talento, già molti artisti del territorio vantano collaborazioni e attività nazionali ed internazionali, come nel caso del maestro capaccese Peppe Cairone, che con il brano arrangiato e suonato dal titolo Il Volo del Calabrone, brano classico di Andreevich Korsakov, ha fatto parlare di sé sui quotidiani di settore. La frizzante melodia ha suscitato emozione ed interesse di Gabriele Salvadores, già a premio Oscar nel 1992, tanto che ha scelto il brano del maestro per inserirlo in una scena del suo ultimo film, Comedians, in programmazione da oggi 10 giugno. È possibile ascoltare il pezzo musicale su YouTube e apprezzare le grandi capacità di Peppe Cairone, che ha collaborato col gruppo musicale Irigheira, notissimi negli anni 80. Dal 1997 ad oggi vanta numerosissimi concerti, sia in Italia che all'estero, suonando in vari teatri, sia da solista che in formazione duo trio. È autore di due pubblicazioni sulla chitarra classica, 74 arpeggi, edito dalla casa discografica Giuseppe Verdi e Al Claro De Luna, edito da Clandilo, Argentina. Dal 2004 al 2016 ha registrato diversi dischi in vendita in vari paesi europei, tra cui Al Claro De Luna, proprie composizioni inedite, vincitore del premio Un Bosco per Chioto, premio ricevuto in Campidoglio dai funzionari del presidente napolitano.